A un'amica mia, poverina, quattro persone gli hanno dato una casa di 50 metri quadri, ma dove si mettono? Voi siete in albergo? No, io sto da mio figlio ospite, perché i cani non li accettano, io ho i cani di taglia grande e non li accettano, mi hanno detto portali al canile, al canile ci porto loro, no i cani. Chiedono maggiore attenzione e rispetto i residenti delle palazzine Ater di Via Lago di Borgiano, sgomberati dalle loro abitazioni a rischio crollo, un rischio che i cittadini nel quartiere Arancitelli non sentono sulla loro pelle, anzi molti di loro sarebbero disposti a rischiare e a convivere con gli scricchioli di quelle strutture pur di restare all'interno delle proprie abitazioni che, raccontano, hanno lasciato in fretta e furia portando via solo pochi effetti personali. Abbiamo subito uno sfratto immediato senza far capire niente a nessuno quando i palazzi non cascano nemmeno fra i 80 anni perché il cemento ci sta, inutile le pittere, le rie, le chiacchiere. Secondo, praticamente anni fa si sono parati il culo perché gli hanno detto che le palazzi si possono curulare, quindi lo sindaco ha messo la firma, lo prefetto, noi stamattina vediamo che cosa dice. Un'altra cosa, noi stiamo in albergo e non è che potremmo lamentarci, però ogni giorno telefonano alle 6-10, alle 6 ci sta la riunione, che poi questa riunione per assegnare, perché ce l'hanno, loro hanno le cartelle cliniche, anche quelle mie, noi siamo in tre a casa mia e io non mi ricordavo le invalidità che avevo, la signora che ha preso nota ha detto che telefoniamo noi all'Inps, quindi ci hanno tutto. È un'altra questione che dovremmo discutere con lui, il fatto del mangiare, perché a noi arrivano mangiati, la trasera era gruta, 15 giorni fa era scotto. Questa mattina i residenti di Via Lago di Borgiano si sono riuniti in una manifestazione organizzata dalla lista Teodoro e dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Il corteo si è diretto in prefettura per esporre a Francesco Provolo tutte le problematiche che stanno vivendo le oltre 60 famiglie sgomberate, molte delle quali con disabili, che risiedevano nelle case popolari. Innanzitutto per l'autonoma sistemazione ci sono delle criticità che noi dovremmo sicuramente spiegare al prefetto per quanto riguarda anche il futuro di queste persone, che cosa le attende, qual è il loro destino. Sono tanti problemi che oggi metteremo sul tavolo del prefetto. E poi c'è la questione di queste case che sono rimaste così, forse c'è anche la scarsa manutenzione tra le cause di questa situazione. Purtroppo si è arrivata a questa cosa perché c'è la scarsa manutenzione, assolutamente, assolutamente. C'è questa situazione che ovviamente poi è pregiudicata e ha causato quello che ha causato. Vedete ci sono quasi 100 persone, stiamo aspettando anche gli altri.